Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, e il vice sindaco di Cossato Carlo Furno Marchese hanno firmato l'accordo di programma che assegna al comune biellese un contributo di 760 mila euro per completare il restauro di Villa Ranzoni. L'intervento complessivo monta 900 mila euro. Il comune interverrà con un cofinanziamento di 140 mila euro. Si tratta di un intervento significativo atteso da tempo, ha dichiarato il presidente della regione Alberto Cirio. Con questo contributo il comune potrà ristrutturare la manica del torchio di Villa Ranzoni e completare così la rifunzionalizzazione del complesso monumentale che ha una doppia valenza. Rappresenta uno dei beni storici più rappresentativi della città e ospita, negli spazi già restaurati, numerosi servizi per la collettività. Sostenere interventi come questo significa rendere le nostre comunità più funzionali e accoglienti. Ringrazio la regione per il contributo, ha commentato il vice sindaco Carlo Furno Marchese. Queste risorse ci consentono di sbloccare un intervento fondamentale, rinviato proprio per mancanza di fondi. Potremo procedere alla sistemazione della manica del torchio e spostare la sala del consiglio comunale in questo posto, dotandola di tecnologie più avanzate, con miglioramenti anche nell'area verde esterna. Il nostro gioiello potrà brillare a servizio dei cittadini e dei turisti. Grazie. Grazie.